nel calcio tutte le squadre vincono e perdono ma guardano avanti cambiando allenatore prendendo volti nuovi quei volti nuovi che fanno sognare le piazze quei volti nuovi che fanno sentire importanti i tifosi noi invece facciamo come i granchi al posto di andare avanti andiamo indietro non le vogliamo minestre riscaldate ci fanno vomitare ci fanno schifo non le vogliamo si parlava di rivoluzione ma così non è stato anzi viglino di più siamo tornati indietro nel tempo con una squadra piena di bidoni peggiore di quella di cardiff e con un allenatore perdente in europa e per lo più difensivista e fifone nell'europa dove si osa nell'europa dove si gioca a calcio dove non ci si prende a pallonate in casa per 70 minuti ogni partita e non ci rompete i coglioni con le finale le finale non sono un traguardo bisogna vincere e io mi ricordo solo dei vincenti non dei perdenti o dei cassificati basta un disastro insomma ennesimo errore di una società allo sbando ennesimo capriccio del nostro vergognoso presidente agnelli vergognati agnelli alla visione calcistica di una talpa i soliti nomi sempre la solita solfa la solita solfa di merda basta ci siamo lotti i coglioni il nostro presidente agnelli che doveva dimettersi anche lui ma ormai si è superato a fare puttanate quest'ultima cazzata la pagheremo cara noi tifosi facendo altre figure di merda in europa già dall'anno prossimo e siamo i primi a dirlo come sempre su questo canale poi non vi accodate poi vi attaccate sapete a cosa vi attaccate poi l'anno prossimo state ancora a guardare come quest'anno come l'anno scorso state lì sul divano a guardare chi alza la coppa e non saremo noi primi a dirlo già dall'anno prossimo quando ci sbatteranno fuori per l'ennesima volta sì continuate a chiamarci catastrofisti ma poi a maggio non vi accodate le critiche prima pirlo e non allegri come diceva tevez picca con che la juve fosse diventata il circolo degli amici lo si era capito da tempo uno schifo senza limiti una società miope che non sa guardare oltre l'orizzonte società di senza palle mai un guizzo mai un relatore stagnero un'invenzione società senza coglioni ora per noi tifosi converrebbe fare una scorta di caffè per non addormentarci una moca gigante ci vuole la moca gigante lo schifo ci aspetta purtroppo siamo i classici italiani che non cambieremo mai mentalità e resteremo dei grandi sognatori dovete essere spagnoli ve l'abbiamo detto spagnoli non italiani insomma hai fallito ancora prima di iniziare se ti cerchi rogne è così importante che dopo non vi lamentate hai dato il colpo di grazia agnelli il colpo di grazia a questa juve